Oramai manca poco alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione al prossimo campionato di eccellenza. 5 le agrigentine e nastri di partenza. Agregas Canigati, Castel Termini, Favara e Unitas Shaka. Vediamo come si stanno preparando singolarmente. Per quanto riguarda il gigante, si attendono sviluppi societari. Se prima non si risolvono questi problemi, non si possono fare ulteriori passi avanti per la scelta del nuovo tecnico e la rossa dei calciatori. Da circa tre settimane la presidente Sonia Giordano, stimatissima dai tifosi biancazzurri, continua ad avere dei contatti per rafforzare la base societaria. La situazione è in costante ebollizione e dentro la prossima settimana ci dovrebbe essere la classica fumata bianca. E che ci sia un certo fermento lo sanno tutti e di certo si sta lavorando per un progetto. Il Canigati invece sta smaltendo la rossa dei calciatori. Sono andati via il difensore Ger Russello, Mario Erbini e Angelo Caronia, mentre si attende di sapere se ci sarà la riconferma o meno del tecnico Pippo Romano. Tutto questo mentre si attende all'inizio dei lavori allo stadio Carlotta Corbonaro, che consentirebbe alla squadra bianco-rossa di poter tornare a giocare al cospetto dei propri tifosi. Chi si sta muovendo bene è in fretta e invece il profavara del presidente Rino Castronovo. In questi giorni ha scelto il nuovo tecnico, si tratta di Andrea Pensabene, 63enne palermitano, un esperto tecnico per disputare un campionato da protagonista. Pensabene da calciatore ha indossato in maglie importanti come quella di Trapani, Nissa, Akregas, Canicatti, Siderno e Ragusa. Nel 94 ha iniziato come tecnico del settore giovanile rosa-nero, per poi allenare il Trapani, l'Igia Virtus in serie C2, Gela, Martina Franca e Manfredoni in serie C1 e la Paganese in Lega Pro. In serie D ha allenato Pergocrema, Sciacca, Milazzo, Sapri, Trani, Turris, Iserne ed Ebolitana, con le quali ha vinto anche il campionato. Nelle ultime stagioni il neotecnico Gelo Blu ha guidato le panchine di Parmonfall, Atletico Campofrango, Città di Scordia, Paternò e Cerremessina dove ha preso il posto di Zeman. Un po' in sordina il Castel Termini che di recente ha organizzato degli stage per visionare i giovani del circontario. Ancora nessuna scelta per quanto riguarda il futuro tecnico, che ricordiamo in passato è stato Pino Labbianca, allenatore e grande conoscitore della categoria. Il presidente San Vito va avanti con i piedi di piombo, ma di certo alla fine saprà presentare ai nastri di partenza un complesso giovane e rembante. Infine, per quanto riguarda l'unità Shishaka, la società si è messa in moto e ha riconfermato il tecnico Giuseppe Gerardi, 43enne, ex calciatore professionista in Serie B e in Serie C, con diverse squadre tra cui Livorno, Crotone e Spezia. Nei campionati dilettanti ha allenato Raffadali, Folgro Ribera dal 2019 e allenatore professionista di seconda categoria UEFA A.